Oggi parliamo del cavaliere inesistente. Ciao e benvenuti a Oggi Parliamo, il podcast per gli studenti di cinese. Ma no, sto scherzando, vorrei parlare cinese, ma penso sia una lingua troppo difficile per me. Comunque, come va? Come stai? Spero tutto bene. Oggi parliamo del terzo libro della trilogia I nostri antenati del grande Italo Calvino. Prima di iniziare ti ricordo che puoi supportare questo podcast offrendomi un cappuccino sul mio Patreon, dove puoi anche comprare le trascrizioni degli episodi. E se vuoi prenotare una lezione con me, trovi il link in descrizione. Vediamo le tre parole di oggi. La prima parola è cavaliere, un nome. Il cavaliere è un guerriero che va a cavallo. Il cavaliere è una figura centrale del Medioevo. Il Don Quixote, per esempio, è un cavaliere. Ah, in italiano diciamo Don Quixote. Altri cavalieri famosi sono quelli della tavola rotonda di re Artù. La seconda parola è devozione, un nome. La devozione è un atteggiamento di estremo rispetto e ammirazione verso una persona, un'istituzione o un valore, un'idea. Per esempio, puoi avere della devozione per Dio o per l'idea della verità. Puoi essere devoto o devota all'idea della patria o a un'istituzione religiosa. La terza parola è suora, un nome. La suora è una figura religiosa tipica del cristianesimo. Nel cristianesimo gli uomini possono essere preti, frati, monaci, mentre le donne possono essere suore o monache. Per esempio, quando ero bambino andavo in una scuola in cui c'erano delle suore e sinceramente avevo molta paura di loro. Ok, siamo pronti per parlare del libro Il Cavaliere Inesistente. Iniziamo dal nome del protagonista, che secondo me è stupendo, Agilulfo. Ma anche il suo compagno, il suo amico, ha un nome altrettanto bello, Gurdulù. Due nomi dal sapore medievale. Agilulfo è un cavaliere di Carlo Magno. Non è un semplice cavaliere, un normale cavaliere. Agilulfo è infatti un cavaliere inesistente, come ci ricorda il titolo del libro. Agilulfo è un'armatura lucida e vuota. L'armatura è quel vestito di metallo, di ferro, che i cavalieri indossano per proteggersi dalle armi avversarie. Agilulfo è solo armatura. Non c'è un corpo dentro quest'armatura. E il suo fedele scudiero, la persona che lo aiuta e che lo segue, è il suo opposto, ovvero una persona che esiste, ma che non sa di esistere. Insomma, hai già capito che stiamo parlando di un romanzo storico, con una struttura, con uno stile fantastico. Agilulfo rappresenta l'uomo contemporaneo, vuoto, perché è completamente definito dalla sua devuzione a un'istituzione. Agilulfo è solo un cavaliere, nient'altro. La sua identità è completamente definita dalla sua partecipazione all'istituzione della cavalleria. In questo senso, Agilulfo è solo forma, senza contenuto. Nel romanzo ci sono altri personaggi, tra cui due coppie. Anche in questo caso, Calvino ha scelto dei nomi molto simpatici. La prima coppia è formata da Rambaldo e Bradamante. La seconda coppia da Torrismondo e Sofronia. Rambaldo e Torrismondo, i personaggi maschili, sono due giovani e durante il romanzo crescono, diventano uomini, affrontando delle sfide. Una cosa molto interessante di questo romanzo è il narratore, ovvero la persona che racconta la storia. All'inizio del libro sembra che il narratore sia una persona esterna alla storia, che già conosce la storia. In realtà, ad un certo punto, scopriamo che il narratore è una suora e che questa suora è Bradamante, l'eroina dell'Orlando Furioso. L'Orlando Furioso è un poema scritto da Ludovico Ariosto nel 1516. Un classico della letteratura italiana. Come sempre, Calvino gioca con il tempo, con i personaggi, con i narratori e con la storia. I suoi libri sono una rete, un network, aperto di significati e di riferimenti ad altri libri. Personalmente, è il mio scrittore italiano preferito. Forse, sotto certi aspetti, mi ricorda un po' Borges, un altro dei miei scrittori preferiti. E tu, cosa ne pensi? Hai letto questo libro? Fammi sapere su Twitter o su Facebook. Prima di salutarti, rivediamo le tre parole di oggi. Il personaggio del libro è un cavaliere, ovvero un guerriero a cavallo. Questo guerriero non ha identità. Tutta la sua vita è definita solo dalla sua devozione all'istituzione della cavalleria. Alla fine della storia scopriamo che la persona che sta narrando, che sta raccontando, è una suora. Ok, anche oggi abbiamo finito. Se vuoi, puoi seguirmi su Facebook, Twitter o Instagram. Puoi offrirmi un cappuccino sul mio Patreon o puoi prenotare una lezione con me. Ci sentiamo domani. Ciao!